pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati inizio del vangelo secondo marco chiamata dei primi discepoli occasione bellissima per riscoprire alcune coordinate dell'agire di dio nella nostra vita e del come potergli corrispondere allora l'agire di gesù è riassunto in tre verbi passa vede chiama gesù appena iniziato la sua missione pubblica e l'evangelista ci dice che passando lungo il mare della galilea ecco il verbo passare andare oltre gesù ritratto come l'itinerante il viandante a livello esistenziale ci ricorda che il signore risorto e cammina passa e attraversa il mare della nostra vita a volte sereno altre volte tumultuoso e ci incontra nella nostra quotidianità fatta di lavoro relazioni è chiaro amici cari ci sono dei momenti importanti dove fermarci in intimità con lui quello spazio quotidiano dedicato alla preghiera al meditare la sua parola oppure quando ci riuniamo con la comunità a celebrare l'eucaristia ma il signore può visitarci in ogni momento ci viene incontro in quel che ci capita ricordo una suora molto anziana che in semplicità raccontava l'origine della sua chiamata era una bambina e stava andando con sua mamma a lavare i panni nel fiume passando vide delle suore che sotto il sole lavavano un cumulo di panni gioiose allegre e lei pensò ma anche io vorrei essere così un giorno come loro il signore si è servito di una cosa tanto semplice e quotidiana per toccarle il cuore quante volte ispirazioni belle intuizioni felici arrivano mentre stiamo svolgendo il nostro dovere un'attività proprio come accade discepoli che vengono incontrati da gesù mentre svolgevano le loro mansioni per questo santa teresa d'avila diceva che dio lo incontro anche tra le pentole in cucina e sant'agostino diceva temo che il mio signore passi e io non me ne accorga dunque il signore passa a noi saperlo riconoscere secondo passando lungo il mare della galilea vide simone e andrea fratello di simone mentre gettavano le reti in mare ecco molto bello gesù vede è lui che per primo posa lo sguardo sulla nostra vita il signore ci vede ci ha a cuore prima ancora che noi possiamo rendercene conto e in fondo tutta la scena della chiamata parte da questo sguardo intensissimo d'amore e su non è un guardare distratto superficiale no è uno sguardo profondo noi cosa avremmo visto dei pescatori gente che apparteneva a un ceto medio basso di bassa cultura sui quali forse pochi avrebbero scommesso gesù cosa vede degli apostoli dei potenziali pescatori di uomini lui vede la bellezza possibile che c'è in ciascuno di noi vede ciò per cui siamo nati vede ciò che siamo e ciò che possiamo diventare noi abbiamo bisogno di lasciarci intercettare dallo sguardo di gesù meditando il vangelo sostando in adorazione davanti a lui d'altronde noi viviamo di sguardi sin da quando siamo piccoli noi andiamo in cerca di qualche sguardo che ci faccia sentire amati importanti ma per andare in cerca di questo sguardo ci si può anche smarrire possiamo arrivare a trasformare la nostra vita in una vetrina dove l'importante è apparire essere visti stare al centro della scena ricoprendo qualsiasi ruolo possa aiutarci ad emergere dietro tutto ciò c'è il tentativo di colmare un vuoto che gesù prende sul serio e che solo lui può colmare la fede e fare esperienza di questo sguardo di quest'amore che man mano ti libera e ti rivela a te stesso quello sguardo che non solo ti fa scoprire unico e amato ma che pian piano ti fa scoprire ciò per cui sei nato allora gesù passa vede e terzo punto chiama dietro ogni conversione o particolare vocazione l'iniziativa è sempre del signore e lui che passando nella vita di ognuno di noi fa udire la sua voce discreta propositiva e mai impositiva parlandoci come possiamo capire attraverso un'esperienza forte di preghiera un versetto della parola che si incide nel cuore un incontro provvidenziale una coincidenza o meglio un addio incidenza una non pienezza di vita che ci spinge a cercare una gioia profonda e senza causa un desiderio profondo di donarsi di più insomma la cosa certa è che dio passa e chiama a seguirlo ciascuno nella sua vocazione e cosa dice gesù seguitemi dunque state con me e imparate da me l'arte di vivere e di amare seguitemi vi farò diventare pescatori di uomini cioè tu dici i tuoi sì nel bene per andargli dietro cerchi nel tuo piccolo di vivere la sua parola e dio compie in te un'opera io vi farò diventare c'è una bellezza che io tirerò fuori da voi io vi renderò miei strumenti per la salvezza degli altri perché miei cari la chiamata non è mai soltanto per noi stessi noi a volte ci chiediamo ma perché io ho incontrato il signore e quella persona no o perché a me il signore ha chiamato a seguirlo più da vicino e a quell'altro che magari era pure più generoso di me no è un mistero ma di certo se il signore ci ha chiamati non ci ha chiamati per noi stessi ma ci ha chiamati per gli altri per diventare a nostra volta pescatori di uomini siamo responsabili anche della fede degli altri allora miei cari gesù passa vede e chiama i discepoli da parte loro corrispondono come in una maniera pronta e radicale e subito lasciate le reti lasciato il loro padre zebedeo lo seguirono allora innanzitutto abbiamo questo subito è vero miei cari che le cose di dio come ogni altra cosa vanno fatte in modo equilibrato questo subito non vuol dire che nella vita non dobbiamo discernere chiaramente ci sono delle cose che si maturano nel tempo ma questo subito indica una prontezza nel corrispondere quando abbiamo capito che dio che chiama non c'è da rimandare quando abbiamo intuito qual è quel passo nel bene che il signore ci chiama a compiere c'è da obbedire e questa miei cari non è fretta e ragionevole ma è fede credere alla bellezza credere nel signore fidarmi che dietro quella sua chiamata c'è un bene più grande questo subito ci ricorda che dobbiamo smettere di rimandare ciò che è importante quante volte ci attorcigliamo in ragionamenti umani e restiamo ingolfati nelle nostre paure noi rischiamo di passare buona parte della nostra vita rimandando pensando che ci sarà tempo poi un'altra parte della vita la passiamo rimpiangendo il tempo che abbiamo buttato ecco perché sant'ambrogio riferendosi alla vergine maria che prontamente si mise in cammino verso la cugina elisabetta disse la grazia dello spirito santo non comporta lentezze in pratica miei cari il vangelo ci educa a vivere bene il qui ed ora a vivere in pienezza l'istante presente a prenderlo sul serio chi vuol farsi santo non può vivere di rimandi e lasciato tutto lo seguirono lasciano e seguono radicalmente non a tempo non a condizione non finché la barca va ma gli vanno dietro lasciare anche qualcosa di importante perseguire gesù è segno che sta accadendo veramente qualcosa di decisivo di importante nella nostra vita e in fondo miei cari ci ricorda che perseguire gesù c'è sempre qualcosa da lasciare perché qui si tratta di diventare santi di diventare adulti nell'amore se ad esempio capisco che il signore mi chiama a seguirlo nella vita matrimoniale e dovrò essere disposto a lasciare la culla di casa per diventare un noi con mia moglie o mio marito il matrimonio miei cari si fa tre lui lei e gesù non lui lei è il papà o la mamma se il signore quindi mi chiama a diventare padre o madre dovrò essere disposto a lasciare qualche passatempo che facevo quando ero single perché man mano la vita si evolve se capisco che il signore mi chiama a diventare consacrato consacrata dovrò lasciare le cose del mondo ma perché ho trovato qualcosa di più grande se capisco che il signore mi chiama a essere suo ministro nel sacerdozio dovrò uscire dalle logiche mondane e carrieristiche del mondo per poter essere veramente dono per la comunità dove egli mi pone per seguire gesù dovrò essere disposto a lasciare i miei vecchi modi di pensare e lasciarmi rinnovare dal vangelo se voglio andare dietro gesù devo essere disposto a lasciare sempre di nuovo il peccato quel vizio quella rete che mi ha legato se desidero seguire gesù che magari mi chiama a prendermi cura di qualcuno è chiaro che devo lasciare il mio comfort dedicare tempo ad una persona andare a visitare un povero prendermi cura di una situazione difficile è chiaro che mi chiede di lasciare altro le mie reti le mie preoccupazioni se desidero seguire il signore che mi chiama magari qui ed ora a compiere qualcosa che mi risulta sgradevole è chiaro che devo lasciare il mio gusto e mettermi in gioco per compiere quel lavoro quello studio se voglio seguire il signore che mi chiama a essere dono dovrò lasciare magari il mio vittimismo smetterla di piangermi addosso e di passare la vita a chiedermi perché proprio a me e pian piano aprendomi alla grazia iniziare a chiedermi non tanto perché ma per chi a chi può servire il mio dolore come mi può servire per amare di più e meglio gli altri quante volte proprio i nostri fallimenti o gli eventi dolorosi attraversati dalla luce della grazia diventano i tesori preziosi che ci aiutano a capire che abbiamo davanti a dare una parola di consolazione non fittizia o estemporanea ma profonda perché vissuta cari fratelli e sorelle ieri come oggi gesù passa vede e chiama a noi corrispondergli prontamente e radicalmente sapendo che nascosto nei nostri sì c'è il bene nostro e di tanti che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti